Nel preparare le puntate di Imperatores delle ultime settimane, mi sto avvalendo molto anche di questo libro, che sono molto contento di consigliarvi, che si chiama Il miglior nemico di Roma di Marco Cappelli, che è un libro che racconta la storia dei Goti, grossomodo dai loro primi contatti con Roma fino al periodo dei regni romano-barbarici, concentrandosi principalmente sugli anni in cui ci furono proprio gli scontri con Roma, grossomodo da Adrianopoli fino al sacco di Roma. È un libro che non solo è molto rigoroso dal punto di vista storico, cita tutte le fonti, è pieno zeppo di informazioni, ma soprattutto è scritto veramente molto molto bene in maniera scorrevole e facile da seguire. Quindi, francamente, se siete interessati all'argomento, volete magari approfondire gli argomenti delle ultime pillole di Imperatores, io ve lo straconsiglio, peraltro Marco Cappelli cura il podcast Storie d'Italia, che credo molti di voi seguano, ed è un ottimo, ottimo podcast.